Wendy e Giuseppe, due amici inseparabili, uniti nella tragedia e dal destino. La loro amicizia e la loro vita si sono spezzate domenica pomeriggio lungo le Siligate, nell'incidente che ne ha provocato la prematura morte. Per loro due momenti del ricordo e di saluto estremo simili, anche se in giorni diversi. Oggi, a 24 ore, esatte di distanza, dopo il funerale di Wendy Xanni nella chiesa di Madonna di Loreto, appesero i funerali di Giuseppe Troisi, di 23 anni. Gli amici e di parenti si sono mescolati in questo momento di distacco e di dolore, accumulati non solo dalla loro amicizia, ma anche dalla difficoltà ad accettare un destino che ha privato due famiglie dei loro pilastri. Il fratello di Eni, come ieri presente al funerale di Giuseppe, ha voluto parlare, sostenendo anche la parte del dolore della famiglia Troisi. Però posso dirgli solo una cosa, che a lui adesso ci penso io. Abbracciando il fratellino, uniti anche loro dal doloroso destino di perdere un fratello, come anche la sorella di Giuseppe, che ha affidato ad una lettera inderizzata al fratello il loro ricordo di infanzia. Questa cerimonia ha mostrato, seppur mortificate dalla tragedia, ma unite nel dolore le due famiglie, come a volersi saldare in un'unica entità, capace di trovare una ragione per portare a continuare a vivere senza i loro figli. Ha parlato anche Chiara, la mamma di una delle due ragazze ancora ricoverate per i postumi dell'incidente all'ospedale di Pesaro, fidanzata con Giuseppe, che purtroppo quando si sveglierà dal coma farmacologico dovrà affrontare la tragica realtà della morte del suo Giuseppe. Come per Eni, uniti anche in questo i due amici, firme e ricordi col pennarello sul feretro e poi all'uscita palloncini bianchi con il suo nome Giuseppe, sperando che volino nel cielo laddove sono arrivati quelli di Eni ieri, così uniti per sempre anche da questo.